sinistri scricchioli iniziano a spuntare le prime crepe nel rapporto tra partito democratico e movimento 5 stelle da una parte il partito che ha governato per anni l'italia dall'altra il movimento rivoluzionario da una parte il partito dei porti aperti dall'altra il movimento che ha affiancato a suo modo la lega nella politica dei porti chiusi da una parte il partito che vuole cancellare il decreto sicurezza dall'altra il movimento che lo ha sostenuto come potranno mai trovare un centro di gravità permanente il primo a esprimere dubbi è il sindaco di vicenza francesco rucco che si chiede quanto potrà andare avanti questo governo targato partito democratico e movimento 5 stelle è difficile da dire la dimostrazione dell'attaccamento alla poltrona ha superato ogni tipo di previsione quindi facciamo fatica a pensarlo se sarà un altro governo del no credo poco però credo che stiamo quasi aspettare a vedere le prime prove le avremo anche su temi importanti del nostro territorio come l'autonomia la tav come il filobus per vicenza come altre opere importanti che sono ferme quindi lei è pronto a testare anche le risposte di questo governo come sindaco come presidente della provincia di vicenza gli aspetta al varco io appena avrò il nome dei ministri che a cui competono le risposte sulle nostre domande faccio le richieste di incontro e vedremo che risposte avremo